ciao a tutti allora in questo video andiamo a vedere un po' le varie nomenclature e i vari tipi di cavi, cavi elettrici e cablaggi che vengono utilizzati nei nostri impianti di casa o comunque anche negli impianti fotovoltaici perché quando noi parliamo di cavi elettrici e cablaggi sappiamo che le condutture elettriche cioè l'insieme dei cavi e dei tubi o canali in cui sono posati facciamo l'esempio di un impianto fotovoltaico devono sopportare tutte le condizioni ambientali come ad esempio l'alta temperatura la pioggia le radiazioni solari eccetera eccetera questo cablaggio elettrico di un impianto fotovoltaico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati in ram che hanno delle prescrizioni o comunque vengono calcolate l'anima in ram viene calcolata secondo norme se non sbaglio cei unel barra i e c che comunque non stiamo qua a spiegare perché diventerebbe un po' noioso il video ciò che dobbiamo sapere che ci sono due tipi fondamentali di cavi si identificano con due sigle che sono l'fg qui l'ho segnato anche in questo cavo ma poi andiamo a vedere nel dettaglio cosa significano tutti questi queste sigle l'fg 21 si utilizza se il cavo rimane esterno o fg 16 se il cavo viene messo in cavidotti su percorsi interrati mentre l'fs 17 viene messo all'interno di cavidotti degli edifici basti sapere questa cosa che esistono fg 21 fg 16 e fs 17 questi riportano tutte a norme specifiche che cei 20 eccetera eccetera per quanto riguarda la colorazione dei vari cavi per non compromettere la sicurezza di chi opera quindi su un impianto in genere durante la verifica o l'adeguamento ma anche solo manutenzioni che facciamo noi stessi sui nostri impianti si deve rispettare questa questa regola per la corrente alternata abbiamo che per i conduttori di protezione quindi per la comune messa a terra che noi chiamiamo il cavo deve essere giallo e verde obbligatorio quindi giallo e verde obbligatorio per il cavo di terra per il conduttore di neutro abbiamo la colorazione blu chiaro obbligatoria anche questa mentre per il conduttore di fase abbiamo due colorazioni che possono essere la nera o la marron l'importante è seguire se noi iniziamo per esempio con il cavo nero seguire sempre e utilizzare solo il cavo nero in uno stesso impianto intendo senza variare nero e marron il conduttore invece per i circuiti in corrente continua dovrà avere indicato chiaramente il segno positivo per il positivo il segno più quindi per il positivo e utilizzeremo un cavo rosso specifico per per circuiti a corrente continua mentre il cavo di negativo dovrà essere segnalato con il segno meno e utilizzeremo un cavo nero quindi per per quanto riguarda quindi tutte le categorie tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni siano essi per trasporto di energia o di trasmissione dati di qualsiasi livello o tensione o fibra otica eccetera dovranno essere classificati in base alle classi del relativo ambiente di installazione abbiamo un regolamento di cui non sto a parlarvi se no per il solito motivo altrimenti diventa un po' monotono il video il regolamento cpr che introduce alcuni obblighe per gli operatori economici cioè la marcatura c'è dichiarazione di prestazioni sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni i cavi in questo senso per il quindi regolamento cpr hanno sono classificati in sette classi di reazioni al fuoco quindi abbiamo prestazioni elevate che vanno da A B1 B2 quindi per prestazioni elevate abbiamo le categorie A poi nella sigla abbiamo CA che significa Cable B1 Cable e B2 Cable queste tre categorie sono di prestazioni elevate prestazioni elevate mentre le categorie C Cable D Cable E Cable E F Cable sono di prestazioni basse prestazioni basse quindi ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma allora cosa significano tutte queste sigle che ci sono che voi andrete a leggere sui cavi elettrici quindi oltre alla classificazione principale che abbiamo fatto che vi ho mostrato ora le autorità europee hanno regolamentato anche l'uso di alcuni parametri aggiuntivi che sono allora di queste sigle qui di queste qua abbiamo l'opacità dei fumi quindi si intende in caso di incendio quindi l'opacità dei fumi che è identificato da S varia da S1 a S3 con prestazioni decrescenti in questo cavo abbiamo segnato S1 quindi ha una prestazione S1 elevata rispetto a un S3 abbiamo poi questa sigla D che identifica il gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l'incendio anche questo varia da D0 a D2 con prestazioni decrescenti quindi D0 avrà una prestazione ottima al gocciolamento di particelle incandescenti in caso di incendio abbiamo poi questa A qui abbiamo segnato A1 ed è l'acidità che definisce quindi la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose quindi varia da A1 ad A3 con prestazioni sempre anche questi decrescenti abbiamo poi un'identificazione di origine composta dal nome del produttore o dal suo marchio di fabbrica abbiamo anche una classe, la classe di reazione al fuoco ed è tutta questa queste sigle che vi ho appena spiegato questa è la classe di reazione al fuoco e abbiamo anche l'anno di produzione nel cavo di questo cavo preso come esempio è del 2018 produzione del 2018 quindi questo diciamo che è una una panoramica del tipo di cavi che noi troviamo in un impianto fotovoltaico o un impianto elettrico di casa diciamo queste sono le sigle principali che noi possiamo trovare in un in un cavo elettrico se non sbaglio non ve l'ho detto fp dovrebbe essere euro fight euro fire protection una cosa del genere una una sigla del genere imq è sempre un marchio del produttore quindi anche per questo video è tutto se avete domande a riguardo fatene nei commenti ci vediamo presto nel prossimo video buona serata a tutti lascia anche per la è il